Ciao, sono Andrea. Oggi vi parlo di accessori indispensabili per la pulizia curata della vostra vettura. I pennelli. I pennelli sono strumenti utilissimi, amati da detailer e appassionati. Consentono di curare il minimo dettaglio, facilitano la stesura dei prodotti e ci consentono di lavorarli con precisione e miticolosità. Le sono accessori indispensabili in tutte le operazioni di detailing, sia che dobbiate agire all'esterno della vettura, su guarnizioni, griglie o loghi, oppure all'interno, su plastiche, pelle o prese d'aria. La gamma è composta da due tipologie, RED e LIME. I pennelli RED rappresentano una delle soluzioni più efficienti per eliminare lo sporco ancorato e tenace, anche nei punti più difficili. Ideali per lavori gravosi sugli esterni auto, dove abbiamo bisogno di movimenti energici, sicuri e precisi, specificatamente studiati per particolari in pelle e volante. I pennelli LIME rappresentano una delle soluzioni più ad ampio raggio per eliminare lo sporco nei punti più difficili, da moltissimi materiali in totale sicurezza, anche su materiali più sensibili o laccati, grazie alla loro elevata capacità di pulizia profonda ma delicata. Per questa sua caratteristica sono consigliati anche per lo spolvero. Per ogni tipologia sono disponibili tre diametri, 24 mm, 30 mm, 35 mm. Questi pennelli sono caratterizzati da un manico bicomponente, ergonomico, flessibile e robusto. In gomma, per un maggior comfort, buona presa e sicurezza durante l'utilizzo. Sono inoltre dotati di un foro per poterlo appendere comodamente. Ok, abbiamo parlato dei nostri pennelli, ora vediamo quali sono le tipologie più diffuse sul mercato. Facciamo una semplice ricerca sul web. Cerchiamo pennelli detailing auto. Ecco i risultati. Troviamo una serie di pennelli, tutti molto simili. Scegliamo questo kit con 5 pennelli. Ha anche un buon prezzo e ottime recensioni. Vediamo insieme cosa ne pensa chi l'ha acquistato. Giuseppe dice, i pennelli sono davvero buoni per i call detailing, hanno setole morbide che non graffiano e rimuovono efficacemente lo sporco. Altri clienti dicono, oltre le aspettative, ottimi, insomma, feedback positivi. Prendiamoli. Ecco le due tipologie più vendute sul web. La setola in nylon e quella in crine, il pelo di maiale o cinghiale. Abbiamo fatto vari test per confrontare le performance di questi prodotti con i nostri. Vediamoli insieme. Esistono diverse tipologie di setole per la pulizia. Setole in nylon, generalmente utilizzate per scope e spazzoloni, o nelle spazzole per la pulizia dei cerchi non verniciati. Setole in crine, cioè il pelo di maiale o cinghiale, comunemente utilizzate nei pennelli per vernici e smalti. Oppure i filamenti sintetici, utilizzati nell'igiene orale e nella cosmetica. Questi ultimi sono quelli utilizzati nei nostri pennelli. Vi spiego perché. Quando si descrive una tipologia di filamento, si parla di conicità e finitura. Con conicità si indica, fatto 10 della lunghezza del filamento, quanto rimane conico al termine del processo di appuntitura. La finitura ci dice invece come si presenta la punta del filamento. Il nostro pennello RED è composto al 70% da PET, un filamento rigido, pieno e appuntito chimicamente, e dal 30% PBT, un filamento più morbido, conico e più mato. Il filamento e la sua punta cambiano in base alla finitura che desidero ottenere. Compariamolo con quello che abbiamo acquistato. La parte inferiore, più rigida, offre maggior stabilità. La parte superiore, più morbida, garantisce una maggior sicurezza. Il nostro pennello Lime è realizzato in Crex. Il Crex è un monofilo sintetico estruso da una miscela di poliestere, adeguatamente integrata con particolari additivi e appuntito mediante un processo chimico. È resistente a quasi tutti gli acidi, agli agenti ossidanti, come il perossido di idrogeno, a molti solventi, agli idrocarburi, oli e rubrificanti. Ideale anche per lo spolvero di superfici particolarmente delicate, come le plastiche rifinite in piano black. Ora compariamolo anche con il pennello in crine. Questo è un test che potete fare anche voi. Prendete il pennello con la setola più rigida, in nylon, e passatelo sulla parte più sensibile del vostro volto. Ora fate lo stesso con il filamento in crine, il pelo di maiale. E ora fate la stessa prova con i nostri pennelli. Sentito che differenza? Visto che non potete sperimentare in video la sensazione che ho provato, proviamo a farvi percepire l'abrasività e la delicatezza con questo test sonoro. Proviamo a fare lo stesso test misurando il rumore della setola su una superficie piana. Le barre verdi che vedete dimostrano graficamente il livello di rumore captato dai nostri microfoni. Per il primo pennello in nylon, guardate lo spessore della setola. Ora il pennello in crine. Potete percepire quanto è rubida. Più è grossa, più risulterà rigida. Ruvidità e rigidità si traducono in maggior abrasività. Ora tocca ai nostri. Per primo il pennello lime. Come potete vedere, a secco, l'abrasività dei nostri pennelli è ben 4 volte inferiore. E ora quello red. Cosa otteniamo? Massima sicurezza. Con questo test potete valutare, per le diverse tipologie, la capacità di assorbenza, cioè la capacità di trattenere il prodotto erogato. Ma perché è così importante? A differenza di entrambi i pennelli della concorrenza, l'effetto conico sui nostri filamenti ci permette di avere queste performance nel trattenere il prodotto, creando durante la fase di lavorazione questa straordinaria schiumosità, come una spugna. Nella parte centrale, infatti, i filamenti sono più fitti ed è sufficiente una leggera pressione esercitata durante la lavorazione per rilasciare gradualmente il prodotto, creando una schiuma compatta e lubrificata. La lubrificazione è la parola chiave per lavorare in sicurezza. Se la uniamo alla delicatezza dei nostri filamenti, otteniamo la soluzione perfetta per lavorare in totale sicurezza su ogni superficie. Pensate che tutti questi filamenti compongono questo diametro di pennello. I nostri pennelli hanno memoria di forma, come memory foam. Significa che una volta utilizzati, le setole tornano nella loro posizione originale, senza deformarsi, a differenza dei pennelli dei competitor che anche dopo poco utilizzi, si deformano e non tornano più nella posizione originale. Ad un professionista, questo pennello dura solo due giorni. Le setole rimangono aperte, rendendolo quindi in poco tempo inutilizzabile. Le setole sono saldamente innestate al manico, non solo nella parte terminale, ma anche in profondità, garantendo una maggiore stabilità e sicurezza durante l'utilizzo, anche i più gravosi. Perché è così importante? Vi faccio vedere. Incastrandoli semplicemente simuliamo una lavorazione particolarmente energica e trovo che il pennello del competitor semplicemente si stacca, perché le setole sono innestate solo nella parte finale, spesso per fusione, e non ci garantiscono stabilità e durata nel tempo. Ci siamo concentrati su materiali e sicurezza, ma alla fine puliscono davvero? Vediamoli insieme. Vediamoli in azione in questo super confronto. Su una superficie sporca abbiamo testato le performance dei nostri pennelli, paragonandola a quelle dei competitor. Ovviamente, per ragioni di montaggio, voi vedrete un filmato velocizzato, ma in ogni quadrante abbiamo utilizzato lo stesso detergente, alla stessa diluizione e mantenendo costante il tempo di lavorazione. Al termine della pulizia, con un panno carta bianco, è possibile vedere lo sporco rimosso. Bene, ma ora facciamo la controprova. Utilizzando il nostro pennello Lime, andiamo a fare un secondo passaggio su tutti e quattro i quadranti. Ancora una volta rimuoviamo i residui di lavorazione con un panno carta bianco e notiamo che nei quadranti lavorati con i pennelli della concorrenza, dopo il primo passaggio, è ancora presente dello sporco, a differenza delle porzioni lavorate con i nostri pennelli Lime e Red. I nostri pennelli sono facilissimi da pulire. Guardate questo test estremo. Questo è olio motore, una situazione di sporco estremo che potremo avere, ad esempio, dopo una pulizia approfondita di un vano motore. Siamo giunti alla fine di questo video. Avete visto quante ricerche e sviluppo ci sia dietro la creazione di pennelli che possono rispondere alle esigenze di professionisti, appassionati e tutti coloro che amano prendersi cura della propria vettura. In passato abbiamo visto insieme anche come scegliere una microfibra di ottima qualità e perché è così importante per ottenere un miglior risultato. Abbiamo visto anche un nuovo ed innovativo sistema di lavaggio composto da doppio secchio, grid guard e supporti di lavaggio, guanti e spugne in microfibra, il tutto per fare un lavaggio più sicuro, minimizzando il rischio di chiare graffi sulla carrozzeria. Ed infine, con questo approfondimento, anche voi saprete scegliere quali sono le caratteristiche che contraddistinguono un ottimo pennello. Ora sapete cosa scegliere? Scegliete bene!